musica ma io sono in pigiama anch'io a metà benvenuti in questo vlog oggi vi portiamo con noi a fare delle fottine questa mattina dovevo concludere un po' di cose prima di tutto c'è la mia parrucca ancora da acconciare non ho avuto tempo, non giudicatemi questa parrucca ha tanti tanti anni e un tempo era molto lungo oggi faremo un taglio molto simile ai miei capelli veri mostreremo il process di questo esatto, vi faremo vedere com'è questo invece è il mio cosplay e devo ancora stirarlo ci sono tanti spoiler in questo video dei miei prossimi cosplay perché Andrea è la mia sarta è la mia tomoglio guardate che carina riuscite a capire di che serie è? forse era meglio che tagliavo questa parrucca perché non ha senso ma qua è tutta lunga qua è corda, qui è lunga l'etichetta che c'è scritta sulla parrucca è maioi maioi? non l'ho usata per ancikugi non ho mai più fatto quel cosmo è di una sponsorship l'avevo usata per un video spooky tipo era una roba di Halloween e poi ho iniziato a usarla per mille cosplay e pian piano la tagliamo sempre di più oggi darò un taglio definitivo e diventerà ufficialmente una parrucca corta beh può diventare sempre una parrucca maschile esatto ancora più corta io in tutto questo a parte video sarò un orsetto fuori campo sono tipo il cube della situazione a parte video E' il momento di truccarsi, ci vediamo dopo Perché devo mettere in carica il cellulare per quello E' il momento gasp Finito Io no Vabbè, in realtà c'è stato un problema le sopracciglie Quindi sei perdonata per quello Vuol dire che abbiamo tentato di coprire le sopracciglie con la cosa Il momento drag non ha funzionato Gasp Sto finendo di incollare una parrucca Oggi tante nuove scoperte, cose che non ho mai fatto in tutta mia Non credo Non mi caso Sei sicura? Sì, ho paura delle autorità Perché c'è un coltello? Bella domanda Queste lenti sono un po' strane Sembrano verdi Mi stanno facendo venire il dubbio di aver preso quelle giuste C'è scritto Egypt Blue Infatti, sono Egypt Blue di TTDI Vi lascio il link qua in descrizione Sono come al mare Sì Sono bellissime Carinissime, grazie TTDI per avermeli spedite Però sono un po' Perché non si capisce bene il colore dal vivo Comunque stiamo andando a mare Wow Parrucca in macchina Non ne aveva niente Non le tengo così di soldo, lo giuro C'è una lampada Beh, abbiamo preso le sedie Per il mare Una volta che l'hai scelto non hai più il diritto della ventura Allora me l'hai scelto l'entra È il colpato per me Sua morte È il colpato tuo Ma guarda questo sole invece, così caldo C'è l'edito vento Tipico, è il saletto Se non c'è vento, non c'è il saletto Esatto, siamo anche qua per presto Non fare il sole non viene Non fare il sole non viene Non fare il sole non viene Non credo che sia stato un coltello Perché è stata proprio spinta la spiaggia E ci sono un sacco di arie Dobbiamo fare l'urlo che fanno di solito Degli anime quando vanno al mare Umidà Umidà È un cratere C'è il faro lì Carino È un mezzo crollato A un mezzo coperno Ah, è lui il ramo Il legno come diceva Laura Oh my god, questo vento Andiamo su quella passarella Oggi la fotografa è Sara Mi piace Sara La modella di prova è È guarda Non c'è la testa Non ti piace? Assolutamente No Tutti i mari belli che stanno Ah, guarda che non è in questo mare Ma queste aree che sono molto fotogeniche però È in mare Cos'è, cos'è? Non so, quella più grande, guarda È cos'è? Aiuto! Oddio, what the fuck Che cos'è? Sono un mochi È un mochi È un mochi Allora, ragazzi, io avevo visto quella Al contrario, sembrava una cosa fatta a maglia Oddio Oddio, sono proprio un mochi Un po' umidino So, che giù È un mochi Sì, è un mochi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nonostante il vento, la salserina, eccetera, è in ottime condizioni. Non ho neanche un modo. What the fuck? Letteralmente. Cioè, boh. Sono felice di oggi. Yeah, grazie. I miei occhi sono sopravvissuti. Però non è ancora finito perché c'è una pizza oggi che ci aspetta. Il nostro lavoro. Il nostro lavoro. Ciao! 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 C'è un lato a terra. Esther, Esther. Esther. Non è qua. Non è un'unica mette questo. Che razza hai mostrato? C'era uno saurus trex. Sono tornata a Milano e volevo dirvi che ho tantissime foto da aiutare e purtroppo non usciranno in tempo per questo vlog. Volevo dare la priorità all'uscita di questo vlog piuttosto che le foto, ma sappiate che le trovate sul mio Ko-fi. I link in descrizione, seguitemi per sapere quando saranno online, dateci un'occhiata se volete vedere tutte quante le foto e volete supportarci. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qua, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi, è molto importante per me. E la prossima fiera a cui sarò presente sarà i Luca Comics, quindi se ci siete buona fortuna di cercarmi. Vi auguro un buon fine settimana e alla prossima. Ciao miau!